Denuncia il furto del telefonino ma viene denunciato perché gli trovano nello zaino un manganello telescopico da più di 60 centimetri. È successo ieri pomeriggio, verso le tre e mezza è scoppiato un violento litigio tra un serbo di 54 anni e un africano all'esterno del discount di più di Viale della Pace. Qualcuno avverte la volante ma quando la Pantera arriva gli agenti trovano solo una persona che segnala il furto del suo cellulare. Peccato che il 54enne paia molto agitato. Perquisendo le borse ai lati della sua bici viene trovato l'arnese di cui non sa dare spiegazioni.